Mi chiamo Anibale Salsa, vivo in Trentino da circa 12 anni, mi occupo di montagna in senso lato in generale, ma nello specifico in ambito trentino del paesaggio, quindi delle tematiche legate al paesaggio e quindi al rapporto tra uomo e natura, tra l'intervento dell'uomo sul territorio e l'ambiente naturale. Ho insegnato antropologia filosofica e antropologia culturale e sociale all'Università di Genova, quindi mi sono occupato sempre di tematiche legate in particolare alle Alpi, sono stato presidente del generale, quindi nazionale del gruppo alpino italiano e del gruppo di lavoro Popolazione e Cultura della Convenzione delle Alpi. Attualmente svolgo attività anche nel Consiglio dell'Università della Valle d'Arosta, quindi sempre in un ambito alpino, montano. Ma è stato un grandevolissimo incontro, fuoriero poi di sviluppi e di collaborazioni ulteriori, quindi già dal 2017 il progetto Innovalp mi ha coinvolto direttamente in qualità di relatore, e quindi ho avuto modo di verificare l'impegno di questa associazione, di questa cooperativa che è incardinata profondamente nel territorio alpino, Carnico, Carnico-Friugano, quindi che svolge un'azione importante perché, ripeto, come avremo modo di approfondire, la montagna bisogna essere accompagnata da iniziative culturali, da iniziative promozionali, da progettualità. In attività innanzitutto un'azione di sensibilizzazione innanzitutto della popolazione locale, perché credo che si debba partire da lì, cioè la gente che vive nei territori, nei paesi, nei cittadini, nelle valli, insomma, deve prendere coscienza del proprio ruolo, che nel corso dell'età moderna, soprattutto a partire dalla seconda metà dell'Ottocento, ha perduto progressivamente, mentre prima lo aveva in maniera forte, quindi è un recupero di sentimento di appartenenza al territorio e di identificazione. Io non parlo di identità, perché è una parola molto ambigua dal punto di vista etnografico e antropologico, parlo di identificazione, che è un'altra cosa. Quindi una comunità, nel momento in cui è consapevole dell'appartenenza a un determinato territorio, deve in qualche modo identificarsi con questo. Identificare così vuol dire restituirlo anche a chi viene da fuori e quindi attivare un sistema di relazione che consentono di uscire da una autoreferenzialità, quindi l'identificazione non in senso autoreferenziale ma all'opposto, quindi apertura verso l'esterno, come la gente delle Alpi ha sempre fatto. Purtroppo lo stereotipo moderno ci ha rappresentato le popolazioni alpine come una popolazione isolate, separate, chiuse in se stesse. La storia segna esattamente l'opposto. Il nome di questa conversazione con la Mars è molto esplicita, molto chiaro. In tutto l'arco alpino, la civiltà alpina, il modello di civiltà alpina è un modello di tipo relazionale, dove la montagna viene percepita come cerniera, non come barriera. Con l'avvento degli stati nazionali, con l'avvento della modernità, invece la montagna ha rischiato di diventare una barriera e quindi uno steccato divisorio tra popoli, qui siamo in un territorio anche di minoranze, quindi come tutte le Alpi, e quindi questo ha penalizzato fortemente la montagna, ha innescato quello che io chiamo la crisi strutturale, prima ancora di quella congiunturale, che poi è intervenuta fino all'Ottocento, ma in maniera massiccia nel secondo dopoguerra, con lo spopolamento, con l'abbandono. Però c'è una crisi strutturale di fondo per cui il paradigma, il modello del sistema montagna viene capovolto. I punti comuni sono moltissimi. Lo dico sempre, c'è un filmo rosso che unisce tutto l'arco e il pino e che spesso rende più simili le popolazioni distanti, centinaia e centinaia di chilometri tra di loro, che non quelle di una stessa regione che ha pianura e montagna. perché la cultura materiale delle Alpi, non dico che è identica, all'identico non c'è niente, ma simile. C'è questo filmo rosso che unisce tutto l'arco alpino. Quindi la cultura materiale, a parte la terminologia usata, il lessico, a parte le parlate, gli idiomi, i dialetti, chiamiamoli come vogliamo, le lingue, però diciamo che questo filmo rosso di cultura materiale c'è e anche immateriale, quindi anche simbolica. Per cui io trovo questa unità del territorio alpino che ho potuto approfondire sia visitando i luoghi, quindi tutti gli otto stati dell'arco alpino, e sia proprio nel mio ruolo anche e soprattutto del gruppo di lavoro Popolazione e Cultura, quindi Popolazione e Cultura della Convenzione delle Alpi, che è un trattato internazionale che unisce tutto lo spazio alpino. Dunque, Cran Mars mi ha subito colpito per l'originalità delle proposte, per un ruolo attivo, non di semplice così, gestione dell'ordinario. Quindi anche innovare, perché è stato, come dice la parola, innovare nelle Alpi, quindi l'innovazione non deve andare a scapito della tradizione, tradizione e innovazione devono essere strettamente, interagire direttamente e credo che Cran Mars abbia appunto un ruolo importante propositivo e progettuale, perché oggi per, diciamo, dare un futuro alla montagna ci vogliono iniziative, progetti che smuovano un po' le acque, che facciano uscire i territori montani da quella marginalità, termine terribile che, diciamo, non si giustifica da un punto di vista né geografico né socio-antropologico, no? Che però la modernità ha consegnato alla montagna facendola quasi per definizione un ruolo periferico e marginale. Questo assolutamente è insostenibile, questo è il risultato di una di quella crisi strutturale di cui parlavo prima, ma non è un dato oggettivo. Le montagne non sono marginali, le Alpi in particolare, perché sono il cuore dell'Europa. L'aggettivo che direi che connota di più questo tipo di attività da parte delle persone che abbonano è l'entusiasmo. E quindi mi pare che da parte di tutti traspaia questo entusiasmo e quindi questo impegno svolge un ruolo attivo importante, un ruolo quasi strategico all'interno di un territorio come la Carnia che, per le ragioni che ho detto precedentemente, è stato in qualche modo posto, collocato in una zona di marginalità. Quindi l'entusiasmo, la condivisione dei progetti, la voglia di fare e di innovare, quindi di introdurre elementi di crescita e di sviluppo all'interno di questa comunità. Allora, introduco una provocazione alla quale faccio spesso riferimento. Il futuro è avvenire. Allora, il futuro c'è sempre e comunque perché è una categoria del tempo. L'avvenire invece bisogna costruirlo. Quindi c'è un filosofo francese che affermava come il rischio sia quello di avere un futuro senza avvenire. Allora la montagna deve avere un avvenire. Avvenire vuol dire concretezza, crescita, presenza attiva. Quindi il superamento del ruolo della marginalità e la montagna oggi sta vivendo una fase di svolta. Questo dobbiamo dire, soprattutto dopo la pandemia. Però già negli anni 2000, parlo delle Alpi, non mi riferisco ad altre catene montuose, ma nelle Alpi a partire dal 2000 i dati che emergono da ricerche degli istituti di ricerca sociale, ci dicono che soprattutto dall'anno 2005 c'è stato innanzitutto l'arresto di una emorragia demografica che aveva caratterizzato gli anni 60-70 del secolo scorso. E una nuova progettualità, una voglia di rinsediamento, un ritorno da parte di coloro dei quali, soprattutto figli, generazioni nuove di coloro che hanno avvenuto abbandonato nel secondo dopoguerra per l'emigrazione, eccetera. E quindi questo è un segnale molto importante. Quindi questo è un elemento. Certamente dopo la pandemia la montagna è diventata anche importante dal punto di vista della vivibilità, della qualità della vita, no? E quindi si è assistito, soprattutto a partire dal 2021, a una vera... Ecco, qui c'è un rischio che è quello dell'over turismo, no? Quindi il rischio che si verificano vere e proprie invasioni di un turismo non consapevole, perché il problema non è il turismo di rito, il turismo di massa. Il problema è il turismo consapevole. Questo è il punto. Allora, nel 21 proprio come fuga, no? La montagna è sempre stata un ruolo di fuga, già dall'anno 1000, tempi del millenarismo, ma questa fuga è contrassegnata da presenze di persone che spesso non hanno minima idea di dove si trovano. Quindi noi siamo in presenza di un analfabetismo territoriale molto preoccupante, no? Ecco. Allora è lì che bisogna lavorare. Un turismo consapevole, perché il turismo è importante come voce dell'economia montana. E poi un ruolo importante di protagonismo della popolazione locale che però deve interagire e quindi il lavoro di restituzione, di appartenenza anche a chi viene da fuori. Questo è. Comunità consapevole. Sì, sì. Quindi il periodo più critico, più traumatico, più drammatico per la montagna italiana soprattutto è stato quello degli anni 60, 70, eccetera. Perché io fino agli anni 50 diciamo c'era una tenuta, poi dagli anni 60 c'è stata con l'emorragia terribile, no? Che si è in qualche modo arrestata alla fine degli anni 90. Dunque ci sono aree che vedono un ritorno e quindi altre come appunto la carne e qualche altro. Il problema secondo me è riconoscibile il fatto che l'infrastrutturazione, ad esempio il sistema delle strade, la viabilità, il sistema dei trasporti, perché i cardini della vivibilità in montagna secondo me sono tre. Allora scuola, sanità e trasporti. Questi sono i tre. le regioni che hanno arrestato l'emorragia o che non l'hanno mai conosciuta, come il caso di certe aree di lingua tedesca, no? Su Tirolo o alcuni cantoni svizzeri che non l'hanno conosciuta hanno puntato su queste tre. Cioè per far restare la gente in montagna bisogna lavorare su questo dei punti. La scuola è fondamentale perché ha un ruolo insostituibile. La sanità, quindi i presidi sanitari, è un sistema efficiente che è il capillare di trasporti, in modo che uno può, se vuole spostarsi eccetera, possa farlo in piena, con facilità. Ecco, questa è la grande sfida. Questa è la grande sfida. Poi ci sono tutti altri fattori, quindi anche la crescita culturale, l'importanza di una appropriazione del sentimento di appartenenza. Come dicevo, però bisogna che si lavori in questa direzione. Io credo che, insomma, il problema delle, anche negli indicatori della ricerca sociale ci dicono che la tenuta della popolazione, perlomeno nell'ambito dei confini italiani delle Alpi, hanno interessato tre province che sono, seguendo un ordine non decrescente, Bozzano, la prima, per ragioni legate alla struttura fondiaria del territorio, Trento al secondo posto e Rosta al terzo posto, che sono, ecco, questa è la prova, tutti e tre territori interamente montani, interamente montani. Le regioni invece miste, dove c'è un pezzo di montagna e un pezzo di pianura, come Friuli Venezia Giulia, hanno più problemi. Quindi lo vediamo su tutto il raccolpino, dove c'è una situazione territoriale mista, ci sono più problemi, perché spesso la montagna, dove c'è una compresenza di pianura e di montagna, recita ancora un ruolo di subalternità nei confronti dell'egemonia politico-amministrativa della pianura. Perché chiaramente quando si allentano le strutture intermedie, quindi che fanno la tradunione, la congiunzione tra il territorio e il decisore politico, in questa regione, poi certo anche lo Stato centrale, ma soprattutto nell'ambiente e allora chiaramente c'è il rischio che i territori montani vengano fagocitati e quindi questo è il vero problema. Io sono sempre stato un sostenitore delle province e quindi del ruolo attivo delle province, non il semplice passacarte della regione, della provincia. Chiamiamola come vogliamo, cioè l'ente intermedio. Se manca l'ente intermedio la montagna muore. Ecco, le azioni da seguire, le azioni è innanzitutto il fattore culturale fondamentale. Quando diciamo culturale lo diciamo in senso antropologico, quindi innanzitutto la promozione di iniziative e di progetti che partano dal locale e vadano in una direzione sovralocale. Perché questa è la vera grande sfida, no? Nella storia della globalizzazione il locale rischia di essere fagocitato, allora si parla di Glocal, ma qui diciamo il problema è quello di lavorare sul tessuto socio-economico, culturale, locale, ma chiaramente in una proiezione sovralocale, no? E quindi guardando anche ai territori vicini. Ecco, quindi faccio l'espressione, io sono arrivato qui perché per il progetto legato alla Valdiresi. La Valdiresi è un territorio di Cerniera, no? Tutti i territori di Cerniera verso la Slovenia, no? Ecco, o verso l'Austria, verso la Carinzia o verso diciamo il Belunese, ecco. E questo è importante perché le Alpi hanno sempre avuto questo, ripeto, non autocentrato ma aperto a dimensione relazionale. Quindi cercando di far convivere tradizione e modernità e tradizione e innovazione più che modernità, però la modernità non è che mi piace, ma tradizione e innovazione. Tradizione, cosa vuol dire? Ah no, tradizionalismo. No, tradizione e l'innovazione è riuscita, attenzione, non è il passattismo, perché qui c'è anche un grosso equivoco di carattere versicare, cioè molti intendono, è qui che bisogna anche lavorare, intendono per traduzione qualcosa che attiene a un passato morto e sepolto. Non è così, assolutamente, la parola all'etimologia latina è ben chiara, quindi tramandare ciò che è vivo, non ciò che è morto. Quindi non la moseificazione del territorio, ma questo tramandare. Quindi l'innovazione è riuscita e questo è un elemento importantissimo. Poi va bene, diciamo, l'attenzione a tutti i componenti che arricchiscono la poliedrica realtà della montagna. Grazie a tutti.